mettiamoci in testa una cosa il prossimo anno parleremo sempre meno di covid e vai direte voi sì giustamente siamo tutti stanchi ma parleremo più di energia e purtroppo il tema non sarà bello perché si parla di blackout energetico si parla di bollette salatissime ma soprattutto ci si domanda stiamo facendo o abbiamo fatto abbastanza per evitare tutto questo ciao sono giovanni villino questo è scalo a grado un podcast di approfondimento sulle notizie e sulle visioni del nostro tempo il 2021 è un anno pieno di novità c'è ad esempio l'approvazione del decreto legge ministeri cosa è successo a febbraio è nato ufficialmente il ministero della transizione ecologica acronimo mite oltre ad avere le funzioni del ministero dell'ambiente ha anche competenze in quello che è il processo della transizione ecologica facciamo un po un punto su quello che sta accadendo a livello globale il 2030 è un anno in cui sono stati fissati diversi obiettivi le nazioni unite hanno posto al centro dell'attenzione lo sviluppo sostenibile in chiave economica sociale e ambientale negli ultimi tempi sentiamo sempre più spesso parlare del famigerato piano nazionale di ripresa e resilienza questo pnrr e il recovery plan italiano fa parte del programma europeo next generation parliamo di un pacchetto sentite di 750 miliardi di euro che è stato concordato dall'unione europea ed è la risposta alla crisi pandemica questo piano ha degli obiettivi ridurre quelli che sono i divari territoriali nord sud i divari generazionali e poi quelli di genere ora è proprio l'energia al centro delle attenzioni dei governi perché si sa che la crisi energetica cui stiamo andando incontro sarà davvero importante attualmente per soddisfare i nostri bisogni di energia di cosa ci serviamo il petrolio il carbone il gas naturale ma siamo in un pianeta dove questi beni vanno verso l'esaurimento vi invito se non l'avete fatto ad ascoltare l'episodio proprio di scalo a grado dedicato al blackout energetico in cui faccio il punto su ciò che ci aspetta a partire dal prossimo anno intanto oggi facciamo i conti con questa crisi energetica abbiamo tanto sentito parlare di energie rinnovabili energie solare quella eolica la geotermica l'idroelettrica è ancora quella delle biomasse l'oceanica certo ci sono dei limiti le energie rinnovabili hanno un problema che è la discontinuità oggi c'è bisogno di una quantità di energia notevole i settori in maggiore crescita quindi impianti eolici impianti che riguardano appunto l'energia solare fanno i conti con delle fonti che non sempre sono a nostra disposizione mi riferisco al sole e al vento ci possono essere quelle più disponibili e ad esempio penso a quella idroelettrica la geotermica ancora le biomasse queste non saranno mai in grado di compensare quella che è la mancanza di sole o di vento quindi ci troviamo in un momento davvero critico c'è chi parla di interessi economici dietro questa carenza e questo rallentare la ricerca verso fonti energetiche rinnovabili o alternative ma di fatto oggi ci troviamo a un punto di non ritorno in fondo l'energia quella che ci serve qualcosa di segreto e se si vogliono trovare i segreti dell'universo diceva nikola tesla persona che non cito a caso bisogna pensare in termini di energia di frequenza e di vibrazioni sono giovanni villino questo è scalo a grado un podcast di approfondimento sulle notizie e sulle visioni del nostro tempo